allora voglio fare questo video per ricordarmi perché in pratica ho questo file che devo andare a modificare ok e volevo modificarlo e ho detto ma perché non cambio formato ok metto in a4 che così diciamo che questo formato va benissimo quando io devo rappresentare le cose così via e far vedere come slides far vedere i miei ragazzi però hai dopo letto ma tengo tutto il formato standardizzo tutto tutto su a4 e niente il problema è chissà un comando in adobe acrobat che mi che da un 448 riesco a spostare i vari formati invece ho perso una marea di tempo ecco perché voglio fare il video per tenerlo lì per ricordare invece non si può a meno da come ho capito io non ho veramente perso tanto tempo poi ho cercato e ho trovato un video in inglese che spiegava questa tecnica qua che funziona perché poi io alla fine sono riuscito con questa tecnica a avere lo stesso file in formato a 4 modificabile e dunque sono a posto devo solo andare a spostare i miei file le mie note aggiungere e volevo farlo in questo modo per avere più razionalità ecco la mia idea poi se i miei ragazzi devono stamparlo così via almeno hanno tutti i fogli giusti e allora come come si fa si fa con questo modo stranissimo cioè si deve andare su file stampa ok si deve andare su file stampa questo è utile questo metodo per qualsiasi formato file stampa si mette qua dove pdf si va in proprietà qua si deve avere a quattro un formato particolare quello che si vuole io a me andava bene a quattro ma vale per qualsiasi formato ok lascio tutto a colori così via lascio tutto qua avanzate io formato se uno vuole cambiare lo può cambiare qua e cambia il formato che vuole per me va bene nelle cose nelle torno indietro in qua in avanzate tengo quello standard impostazione predefinita perché qua potrei aumentare ma non mi interessa non ho foto non ho immagini così via e dunque vado a vedere tutto a posto adatta verticale il mio verticale non è orizzontale e qua sono andato a vedere sta dentro tutto dunque sono a posto perché voglio cambiarlo aggiustarle così via e allora quasi quasi cambio anche il formato e dunque sono a posto ho fatto andare a questo punto o stampa ok non faccio andare ci mette un po bisogna dargli il nome così via non lo faccio vedere e il risultato visto che l'ho già fatto qua faccio nulla comunque il risultato è questo c'è una senso comunque se io vado poi a fare modifica o comunque un file abbastanza modificabile con queste queste scritte qua e dunque ecco ricordarsi perché sennò ci si mette una vita ok ci vediamo la prossima arrivederci